Zeno D'Agostino è il presidente dell'autorità di sistema portuare del mare Adriatico orientale, oggi convention internazionale diciamo. Ieri in una presentazione il presidente ha detto che i porti del Farist sono già molto oltre come digitalizzazione, organizzazione eccetera i porti europei. Io di solito guardo abbastanza quello che abbiamo in casa, mi sembra che alcuni porti in Italia abbiano dei processi di digitalizzazione molto avanzato, poi va sempre chiarito che noi facciamo mestieri diversi da quelli che fanno i porti del Farist piuttosto che i porti del nord Europa, vedevo anche a Trieste recentemente Rotterdam che presentava alcune soluzioni digitali ma non dobbiamo dimenticare che loro hanno anche il ruolo di port e arbor master, devono gestire cose che non sono gestite dalle autorità portuali in Italia, le stesse cose vale per i Farist, grandi società che gestiscono i porti sono anche gestori di terminal e quindi hanno un processo di digitalizzazione che è chiaramente più avanzato perché fanno mestieri diversi dal nostro. Quindi per quanto ci riguarda Port Community System che è fondamentalmente lo strumento utile per gestire le attività specifiche di un porto e che viene di solito organizzato, coordinato e gestito da autorità portuali, in alcuni casi in Italia mi sembra molto avanzato, quindi in questo caso mi permetto di dire che siamo un po' più bravi di quello che sembra. Senta Presidente, i giovani, perché si fa molto riferimento anche a loro, il lavoro del futuro ce l'hanno assicurato oppure c'è qualche problema? Insomma mi sembra evidente che c'è qualche problema perché altrimenti non avremo anche oggi qui delle persone che sono qui a dimostrare. Il tema vero a prescindere da giovani o vecchi è che bisogna capire che è il lavoro che è fondamentale, porre il lavoro al centro delle politiche è la questione fondamentale, non sono i traffici l'obiettivo di un porto, i traffici sono uno strumento che deve portare occupazione, lavoro e creazione del valore. Questa non è una cosa banale, è una rivoluzione anche culturale di chi gestisce i porti e mi permetto di dire che soprattutto in un momento in cui c'è un pericolo o perlomeno si sente un pericolo a livello geopolitico globale, noi dovremmo capire che nell'affrontare il tema del lavoro dovremmo guardare al lavoro come un elemento di forza che ci permette anche di essere forti in un momento in cui il mondo si sta chiudendo. Ultimo verso, ultima nota su Trieste, ormai 300 anni di storia, ormai siete lanciati, cosa c'è di dire di novità ormai su Trieste, Presidente? Che cominciamo a uscire, nel senso che abbiamo lavorato spero bene sul porto di Trieste, poi Monfalcone, il sistema integrato complessivo che comprende anche gli interporti, le zone franche quant'altro, il prossimo passaggio è quello della partecipazione e integrazione con grandi piattaforme logistiche portuali in Europa e nel mondo.